benvenuti a tutti a questa breve lezione speriamo anche chiara e gradevole che avrà come argomento i teoremiti euclite un consiglio che posso dare prima di iniziare è questo qua in caso di dubbi di fronte a certe formule è consigliabile mettere in pausa e ragionarci su o al limite riavvolgere e rivedere l'ultimo passaggio bene a questo punto direi che ci siamo partiamo a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.